Buongiorno a tutti da Marco Bisogni e benvenuti sul canale. Nel video di oggi parliamo di un argomento sempre molto dibattuto, quello dei megapixel, ovvero quanti megapixel dovrebbe avere una fotocamera e se una fotocamera con un grande numero di megapixel è sempre preferibile. Allora per come la vedo io la risposta è no, vediamo perché. Prima di tutto fotocamere con molti megapixel producono file più pesanti, file più pesanti si traducono in necessità di elaboratori, di computer più performanti per gestirli, quindi dopo aver comprato e aver speso diverso denaro per una fotocamera con 40 o 50 megapixel vi renderete conto che il vostro computer probabilmente non sarà più sufficiente a gestirli o comunque non sarà in grado di gestire questi file come quelli con la stessa velocità di quelli della vostra fotocamera precedente. Seconda di poi vi serviranno hard disk sempre più capienti perché fotocamere con tanti pixel producono file con più informazioni e file con più informazioni occupano più spazio una volta che devono essere archiviati. Inoltre un sensore più denso di pixel vorrà delle lenti più performanti in grado di sfruttare questi pixel in più, quindi sarà necessaria un'ulteriore spesa per adeguare il vostro parco ottiche se già non è di classe molto elevata. Un altro problema è quello della diffrazione ma di questo ho già parlato in un altro video che vi linko in alto. Non solo, tutti i difetti che può avere un'immagine saranno più evidenti perché più pixel vogliono dire più definizione. Quindi tutto questo per dire cosa che non per tutti i generi fotografici, non per tutti gli scopi sono necessari tantissimi megapixel. Sto riprendendo questo video alla fine di settembre 2018 e in questo momento mi sento tranquillamente di dire che un sensore da 24 megapixel è adatto alla maggior parte dei generi fotografici e alla maggior parte degli usi. Certo, per usi particolari un sensore con più megapixel fa comodo, però nel momento in cui si acquista non bisogna dimenticare tutta la filiera che si porta dietro nel nostro workflow e nella nostra attrezzatura. Bene, il video di oggi finisce qui, se vi è piaciuto lasciatemi un like, se vi fa piacere continuare a seguirmi e non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e alla prossima. Ciao!